questo è il mio pranzo sono spaghetti col sugo al pomodoro niente di complicato niente di fritto niente di niente così non dite che io non mangio la pasta e voilà buona domenica buonasera ciao a tutti oggi sono con la maglietta di ACDC chi nella nostra gioventù non li ha mai ascoltati allora oggi rispondiamo ai vostri commenti del fitvlog 13 purtroppo ieri sabato mi sono fatto male alla schiena e sono un po bloccata non mi sono fatta male la schiena in palestra ma la rotta della carrozzina di matteo si è impigliata in una buca e io per tenerlo l'ho acchiappato per non farlo cadere l'ho preso e sono caduta all'indietro sul sedere quindi mi sono fatta male la schiena un po di riposo meno male che ho il culo grosso così almeno ha attenuato gli eventuali traumi allora iniziamo luana binetti ciao tesoro anche io sono d'accordo con te quei prodotti non fanno nulla io ho provato per due mesi la garsina e non mi ha fatto proprio nulla anzi quando la prendevo mi facevamo allo stomaco ti seguo sempre tanti baci allora il fatto è luana che a quanto pare bisogna prendere per più tempo la garsina da sola per quello che mi ricordo io non fa un cavolo però presa insieme alla caffeina al tè verde altre cose sì quindi bisogna un po non prendere così a caso ma comunque chiedere agli specialisti alle persone che se ne intendono di queste cose perché così del sentito dire mi oxy oxy ciao tesoro la tinta labbra che parli in macchina quale quella rossa ma io uso un sacco di rossetti c'è una galerba ma un giorno quando c'è un po di tempo vi le faccio vedere tutte perché non so di quale parli voi io capirai io non sono sono io mi piace tanto il trucco ma io nomi cose sono un po caffona ignorante laura montaldi quel barattolo di capsele colorate inquiettante solo a vedere se sembra ad essere spacciatore che nella bustina mi piace molto ascoltare i tuoi video sai di cosa parli e perciò sei credibile io allora io non voglio io dico ciò che io conosco non sono una sapientona o cose cose che ho letto che ho studiato è così cioè non è che è quello che dico io deve essere così e basta siamo qui proprio per confrontarci e magari voi mi insegnate qualcosa a me io insegno qualcosa a voi tutto qua allora mi via ok io ho messo su 10 kg e meno di un anno ah in un anno hai messo 10 kg ok per svariati motivi è più in grasse più mi sento la donna invisibile ti segue sempre ascolto i tuoi consigli con attenzione ma in questo periodo ho la testa non ho la testa per seguire una dieta mi stressa a te è scattata una scintilla che ti ha portato ad iniziare un abbraccio allora prima di spiegarti cosa è successo a me ti dico cosa devi provare a fare per una settimana cerca di non usare più lo zucchero bianco in qualsiasi forma sia così come sia nelle cose che lo contengono fai solo sta cosa senza metterti a dieta senza stare lì a pensare oddio sto a diet odio sto a diet non prova solo ad eliminare lo zucchero da tutti gli alimenti che lo contengono e da lo zucchero bianco e vedi come ti va una settimana vedrai che piano piano cos'è scala cioè la scintilla che è scattata ma è stato il primo gennaio del 2017 allora io già l'ho detto in qualche video io ho fatto il bandaggio gastrico sei anni fa sei non mi ricordo nemmeno l'ho tenuto per tre anni non ho perso un grammo dopodiché quello c'è un port sotto cutaneo mi sembra mia mi ha fatto infezione sono stata per un anno con i drenaggi di infezione sulla pelle dopodiché nel 2016 2016 si a febbraio 2016 mi hanno dovuto togliere tutto il bandaggio gastrico quindi io non ho più un bandaggio gastrico dopodiché il momento che l'ho tolto poi sono successe delle cose una morte nella nostra famiglia così via sono ingrassata un boatto quindi io a gennaio del 2017 pesavo 120 kg 22 23 per essere così più certi vabbè questo poco importa che è successo che il primo gennaio del 2017 stavo in giro col mio ex ragazzo e che stavamo passeggiando per veranzia una certa mi sono sentita male male in che senso ho avuto come una paura infondata il cuore che mi batteva a mille mi sono quasi vista tutta la mia vita a passarmi davanti e dopo questi ma sono stati attimi tutto successo così mi ha detto marco io mi devo sedere ci siamo che ti è successo che c'hai sei tutta palida mi sono messa seduta e mi sono vista mi sentita una grande paura addosso come se fosse quella paura di morire come se fosse stata una morte imminente e io mi sono rifiutata in quel momento di di accettarlo di come vi posso dire di mi sono cagata sotto un po che da domani io non mangio più schifezze ed è così è stato io per tre mesi mi ricordo non ho mai sgarato fino a marzo il telefono mi ha squilato era il mio ex che da persone adulte siamo rimasti molto amici e mi ha chiamato vabbè perché è bello è bello quando due persone riescono ad accettare che comunque tra di loro la cosa è finita e dopo un po di tempo riuscire a instaurare un buon rapporto anche perché io e lui siamo stati dieci anni insieme e quindi la sua famiglia anche la mia tante cose ci legano e non possiamo cancellare come se niente fosse quindi l'amicizia è importante anche perché ci rispettiamo non ci siamo fatti del male uno all'altro ci siamo lasciati perché l'amore era finito e niente quindi si è scattata questa cosa ho avuto una paura ho avuto paura di morire cioè è stato questo e ho detto io non voglio lasciare i miei figli orfani perché io non so capace di badare a me stessa non so capace a tenere una dieta non so capace a mangiare sana non so capace a essere in salute io devo morire di morte naturale non di malattia e quindi è stato questo che ha scatenato quella cosa di da questo momento basta è nella russo se fossi un regista ti prenderei come protagonista non fi romantico sei troppo simpatico e dolcissimo ma grazie un romantico di quelle delle vecchiette perché sabrina boni ti amo ti amo anche io sabri allora andiamo avanti allora ciottolina daniela mi raccomando andate sul suo canale allora mi dice mio cugine bodybuilder dice che quelli che hai preso sono i migliori poi io gli ho risposto dico però a me non mi ha fatto niente lei mi ha detto no fanno effetto dopo due settimane quindi io riproverò a prendere quei integratori perché alla fine sono tutte sostanze naturali tipo caffeina tè verde agarsina tutte queste cose così nulla di chimico a me tutto è chimico però ecco derivazione vegetale facciamo così e mi ha detto che dopo tre settimane fa effetto ok tesoro faresti video di svuota la spesa di prodotti euro spin che consigli per la dieta oh mio dio che vuol dire svuota la spesa cioè quelli che faccio vedere che ho comprato vabbè dai un giorno un giorno faccio promesso grazie sempre di avermi risposto come sempre ma figurati tu sei un tesoro poi Elena war world ciao ti do il mio numero oh mio dio no non mi dare il tuo numero aiuto gioia no questo è stato ma io credo che ho fatto ho risposto a quello di ieri io infatti allora spero che le mie risposte vi siano piaciute non dimenticate di condividere questo video così ci facciamo conoscere e ci vediamo domani like e seguitemi su instagram janina italia ciao ciao ciao